A inizio dicembre 2023 la presentazione ufficiale alla stampa. Venerdì scorso l'annuncio di avere costituito per primi a livello italiano un gruppo giovani. In pochi mesi di attività fa segnare già un record la sezione di chieti di Professione Italia, network di liberi professionisti e imprenditori, ispirato dai valori della tradizione liberale, popolare e nazionale, con l'obiettivo di supportare la coalizione di governo di centrodestra mettendo a disposizione le proprie competenze con un elemento di novità, qual è l'unione trasversale di professionisti qualificati. All'appuntamento ospitato dalla Caffè Vittoria esponenti nazionali e locali di Professione Italia, politici di centrodestra e naturalmente giovani animati da tanto entusiasmo. A livello nazionale a guidare Professione Italia è l'avvocato Antonio De Angelis. Siamo riusciti a costituire nel territorio nazionale circa 35 sezioni in tutta Italia, da Nord, da Torino a Ragusa. Sono sezioni provinciali? Sono sezioni provinciali, l'organizzazione è su base provinciale, quindi l'obiettivo è quello di cercare nel più breve tempo possibile, speriamo di riuscire a farlo entro il 2024, di coprire tutte le province. Sono 110 se non ricordo male. Sono 110 ma siamo a buon punto perché siamo a poco meno della metà e insomma confido nel fatto che davvero nel giro di un anno si possa riuscire a coprire tutto il territorio nazionale. La territorialità è un nostro elemento, vuole essere un nostro elemento caratterizzante. In Abruzzo siete presenti solo a Chieti? In Abruzzo siamo presenti a Pescara che è stata la prima sezione che è stata costituita, la prima sezione in Italia ad essere costituita, quella di Pescara, e poi a ottobre del 2023 è arrivata la sezione di Chieti che devo dire si è caratterizzata da subito come una delle sezioni più attive d'Italia. Inquadrati i finalità e i obiettivi di Professione Italia, abbiamo chiesto alla referente territoriale della provincia di Chieti, Micaela Camiscia, come intende muoversi la sezione sul territorio. Il territorio è complesso perché la provincia di Chieti, bellissima la nostra provincia, è formata da 104 comuni che hanno differenze. Ecco perché Professione Italia, con la costituzione delle sezioni che ad oggi sono 38 sul territorio, sezioni provinciali, riesce ad avere un contatto diretto perché la capillarità territoriale è importante. Riusciamo in questo modo a capire quali sono le richieste, le istanze autentiche di tutti i cittadini che chiaramente sono diverse da comune a comune. Noi andiamo dal mare alla collina alla montagna. Al di là di ogni più rosa e aspettativa abbiamo avuto dei risultati brillanti. Il nostro convegno del 3 febbraio a Lanciano, che ha parlato della legge urbanistica e della via verde, che è una cosa interessante perché è uno dei paesaggi più belli della provincia di Chieti, ci ha dato una grande soddisfazione. Per noi oggi è una giornata importante perché siamo la prima sezione che costituisce il gruppo giovani, con lo scopo di lanciare una sfida alla disaffezione politica. Non vogliamo fare politica, non vogliamo sostituirci agli ordini di appartenenza, assolutamente, ma abbiamo intenzione di mettere la nostra conoscenza, la cosiddetta contaminazione dei saperi, a servizio della politica per cercare di avere un dialogo qualificato con la politica e cerchiamo di fare questo anche attraverso i nostri ragazzi, benché non siano già professionisti, ma essendosi elevata l'età in cui i nostri giovani si titolano, abbiamo pensato che con un gruppo giovani potesse essere più facile interloquire con una classe di età più bassa.